Il maltempo sferza il nord Italia. In Veneto il governatore Luca Zai ha dichiarato lo stato di crisi. Nella regione è scattata l'allerta rossa per venti forti, temporali e ingrossamento dei fiumi. Bloccata la linea Milano-Venezia, sempre per le avverse condizioni meteo. Anche in Emilia Romagna e Toscana si monitora il livello dei fiumi. Secchia, Panaro e Reno sono cresciuti e restano sopra la soglia arancione, mentre in Liguria le forti precipitazioni hanno causato diverse frane e disagio alla circolazione per le strade interrotte.